segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te c'ha un rapporto personale con putin lui pensa di poter attraverso questo rapporto rientrare nella grande scena internazionale e solo che non avendo capito che la fase completamente cambiata ha commesso un un errore drammatico secondo lei ci sono anche dei motivi elettorali dietro queste sue dichiarazioni sì lui non sopporta la meloni insomma che cioè non sopporta la meloni come leader politico del centrodestra che lui ha fondato al fondo c'è questo elemento con quella battuta ha sperato di riuscire a intercettare anche uno spicchio di voto certo è che ha creato un problema anche al tagliani questa sua uscita ma direi che il problema l'ha creato a forza italia nel suo complesso non poteva la stessa forza italia rompere contemporaneamente con la meloni col partito popolare europeo con l'unione europea e con gli stati uniti credo che ci sia stata una moral suasion interna che ha consigliato poi berlusconi a fare il passo indietro che lui ha fatto ma lei che conosce così bene la macchina forza italia com'è possibile che gliel'abbiano permesso di dire queste cose a parte il fatto che un po difficile imbavagliare berlusconi gli è sfuggito diciamo così e quindi il partito popolare europeo ha detto a beber fermalo manifesta il nostro dissenso perché questa non può essere una posizione di un partito all'interno del partito popolare europeo questa è la prima volta che succede che il ppe vada contro berlusconi di fatto sì è la prima volta quindi la linea estera di forza italia chi la detiene berlusconi o tagliani la dichiara tagliani col consenso forzato di berlusconi le sembra lucido politicamente berlusconi non lo so è che sterzate troppo forti in politica estera in un momento assai delicato della politica estera possono avere effetti suicidi quindi per questo io credo che se vuole salvare il suo partito berlusconi deve fare conto fare i conti con berlusconi stesso a chi ha fatto più male questa uscita di berlusconi a forza italia o alla all'immagine internazionale di giorgia meloni qualcosa forse di più ha messo a repentaglio anche il governo italiano ci saremmo trovati fuori da tutto diciamo così dall'occidente contro cui putin poi perché putin sta sparando sugli ucraini vuole destabilizzare l'europa e conta di cambiare con la cina gli equilibri nel mondo rispetto agli stati uniti non è una partita di piccolo conto si è riaperta una fase drammatica di guerra fredda perché non c'è più da quella parte un comunista ortodosso c'è un nazionalista autoritario e ossessionato di passare alla storia come quello che ha ricostruito l'impero russo allora